la cucina di orto qui vi presenta i mini strudel veloci con mela red della valtellina e chantilly gli ingredienti per questa ricetta sono pasta sfoglia mela red della valtellina zucchero panna pinoli uvetta la scorza e il succo di limone mezza bacca di vaniglia e zucchero a velo procediamo lavando le mele le peliamo e le tagliamo a cubetti inserisco le mele all'interno di una ciotola aggiungo il succo di limone poi i pinoli l'uvetta che è stata precedentemente ammollata ed ora aggiungo lo zucchero lascio marinare qualche minuto e il mio ripieno è pronto coppo la pasta sfoglia procediamo con il ripieno ora richiudo i miei strudel ed in forno a 190 gradi forno ventilato per circa 10 minuti i nostri mini strudel sono pronti li servo con della chantilly montata a parte e un pizzico di zucchero a velo buon appetito da orto qui la cucina portata di tempo tasche e territorio ciao ciao ciao